Era molto importante per la città di Milano nel Post Expo confermare questo ruolo internazionale di presenza e di impegno, in particolare culturale. Ecco l'occasione per una ventunesima triennale dal 1996, questo non accadeva più in città. Quindi l'evento per la prima volta esce dal Palazzo di Muzio, dal Palazzo dell'Arte e si diffonde in città coprendo diverse istituzioni, diversi musei, diversi luoghi. Il tema generale della triennale, fissato dai curatori, è design after design. Che cos'è il design dopo il design? Grazie per la visione!